Una voragine larga 20 metri e profonda 10 si è aperta su una strada residenziale di un piccolo centro alle porte di Londra. Gli abitanti di St Albans, 35 chilometri a nord della capitale britannica, questo giovedì mattina si sono svegliati con questa enorme sorpresa. Diverse famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni e nella zona sono state interrotte le forniture di acqua, luce e gas. I vigili del fuoco riferiscono che 10 persone, in maggioranza anziani, sono state portate in un centro di accoglienza. La voragine era stata preceduta pochi giorni prima da una piccola frattura dell'asfalto.